ok ragazzi in pista che facciamo due passiti insieme dai forse insieme dai un po' di base dai, anche il pubblico fuori che vuole fare i suoi partiti di stanza cubana, vi invito in pista per scaldarvi un attimino la serata, chi è seduto non è invitato, prego, ok, vieni dai, pronti, mi metto un po' più avanti qua, ecco, pronti, vai iniziamo due utili di base, allora ragazzi,boi accettate, trattavamo iniziano a tutti, vai, dagli pompa, vai quindi, partiamo dal primo passo musicale, via, uno, due, tre, cento, uno, due, tre, cento 6, 7, 2, 3, 2, 3, via 7 vado solo avanti ora 8, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 7, 2, 3, 2, 3 l'altro lato, 4, 4, 5 uomini A presture, donne!